Parliamo di questa bella vittoria della Gianna su Renate 3-0 con il mister Cesare Albé, è una vittoria super grazie a un super secondo tempo. Sì, noi siamo partiti molto, molto, come dire, impauriti forse, sicuramente qualche risultato non positivo lascia il segno, insomma. Siamo partiti impauriti molto e invece il Renate è molto sciolto, dinamico, pressava tutto campo, direi per un 25 minuti. Dopodiché, ma mi pare che la Gianna sia anche nel primo tempo, nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, sia anche cresciuta. Il secondo tempo è migliorato ancora, naturalmente poi le partite dipendono dagli episodi e l'episodio del rigore, una bella ingenuità nostra su un bel cambio a campo loro, una difesa in quel momento lì a 5, lasciare andare un uomo in quel modo lì è stato un grave errore. È stato bravo il portiere a pararlo, comunque, e da lì poi è ricambiata ancora la partita. Penso il risultato, lasciamo stare, ma una vittoria, penso, tutto sommato meritata. Facciamo un passo indietro, partendo dalla formazione, io in tribuna e anche i miei colleghi sono rimasti un po' sorpresi dalla formazione iniziale con quasi tutti gli attaccanti in panchina. Sì, è la verità, diciamo che forse un attaccante, noi volevamo giocare con una sorta di 4-3, un centravanti perna e due esterni di gamba, uno è Rossinia, non è la prima volta che lo fa, l'altro poteva essere Spiranelli, ma quest'anno non è ancora riuscito a giocare, perché non ha condizioni, ha avuto tanti infortuni e sta rientrando un po' adesso. E invece di Spiranelli abbiamo pensato a mettere alto Solerio, perché è in grado di fare anche quello benissimo, perché nei ragazzi giocavano comunque anche da attaccante. E quindi due giocatori da fascia, da gamba, sia in fase difensiva, che può trasformare la squadra in un 4-5-1 in fase difensiva, in un 4-3-3 con perna davanti in fase offensiva. Nell'inizio è stato non buono, ma non per questo, è stato non buono perché qualche risultato delle settimane precedenti ha condizionato, ha impaurito e quindi era molto più sciolto Renate, che tra l'altro ha fatto anche molto bene, pressando molto bene, pressando molto alto tutto campo. Anche loro fanno un gioco comunque di una sorta di 4-3-3, con spampatti centravanti, scacca Barocci, che è una mezzala a sinistra e Iovini a destra, che può fare anche il terzino. Quindi due squadre messe in campo in modo abbastanza speculare. Sicuramente. Mi vorrei sottolineare la prova di perna come punto di riferimento là davanti. secondo tempo, oltre a dare il via a tutte le azioni, direi che ha fatto una partita super. Perna è monumentale. Basta, tutto il resto è... Perna è questo. Perna, noi l'abbiamo perso due mesi prima che finisse il campionato l'anno scorso e forse l'abbiamo ritrovato oggi. Perna che conosco io è questo. E' quello il suo ruolo e riesce a fare attacco anche da solo. Perché questo è perna. È veramente monumentale. Questa vittoria non cambia o cambia qualcosa nel cammino della Gianna? Adesso c'è più sicurezza? C'è una classifica che sorride? Cambia niente. Settimana con settimana è durissima. L'avevo detto dopo la partita contro il Vicenza, che era un campionato che effettivamente il secondo tempo di quella partita lì mi ha dato la sensazione che stare in categoria sarà dura, dura, dura. E confermo questo, nient'altro che questo. Non cambia niente. Sicuramente le vittorie aiutano a vincere da sicurezza. L'avete visto anche voi che i primi 25 minuti, la prima mezz'ora, c'era un'insicurezza. Ma non dovuto al fatto che Solera non sia in grado di fare quella roba lì o perna. Ok? Proprio perché i risultati precedenti non sono stati così positivi. Questa è una squadra che viene da tre anni di vittorie. Queste battute d'arresto qua, che ci stanno in un campionato come questo, ci hanno impaurito tanto e quindi non c'è sicurezza. Ecco, io spero che qualche vittoria tipo questa possa darci qualcosa in sicurezza in più. Ecco, io sono ecco.